sono il principe di bisanzio antonio de curtis in arte totò mi chiamo umberto del prete ho 39 anni e sono di fratta maggiore sono un attore performer artista di strada e una grande passione per il grande totò è stato diciamo il mio supereroe preferito da ragazzino guardavo i suoi film e praticamente cercavo di imitarlo davanti allo specchio facendo delle mosse così così con la voce ma la strada diciamo come diceva eduardo del teatro più bello diciamo a napoli è un teatro a ce l'ha aperto totò orrold nasce cinque anni fa in occasione se sei sei anni francese totò orrold nasce circa sei anni fa in occasione del cinquantenario della scomparsa di totò mi venne la brillante idea di esibirmi in strada talmente le che le persone sono rimaste sorprese da questo spettacolo che ancora oggi porto avanti questo progetto nec visto che tra poco ci conosciamo e io ti vorrei dare delle lezioni anzi anzi caro nec leggi deve prendere una laura laura è in questo momento non c'è